Se quel guerriere io fossi, se il mio sogno si aperasse Sto usando un prodotto la Nitro, che è un po' rognoso, è difficile da stendere perché la vernice asciuga istantaneamente appena la dai e sento che va posizionato in piazzale Picelli, volevo un colore che non disturbasse molto alla vista e che si confondesse un po' con l'azzurro del cielo Le forme sono quelle che potete riconoscere di più del mio lavoro più che altro la sintesi geometrica del volto di Verdi in questo caso forme e colori stanno alla base del nostro lettore, che poi chiamiamo cervello e quindi sono la codificazione che diamo del mondo